A proposito di progetti, lei nel Consiglio Comunale ne ha citato uno che si è tinto, potremmo dire, di giallo, oppure si è perso un po' per strada, insomma faccia un po' lei, quello del santuario di Pantano. Che cosa è successo? Esatto, avevamo già detto della Conad, un investimento complessivo da 23 milioni di euro che è stato dirottato su Tarquinia, pochi chilometri più là dal confine, insieme ai 68-69 nuovi posti di lavoro che andrà a dare da quando sarà completato l'investimento, lo vediamo alla fine dell'autostrada, credo che a maggio partirà, si è detto di no alla CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ai Vescovi, che già da oltre due anni hanno proposto al Comune, hanno detto di essere pronti con un finanziamento al 90% della CEI e per il 10% credo della Curia, comunque con soldi che non verranno chiesti al Comune in nessun modo a realizzare il santuario della Madonnina delle Lacrime di Pantano. Su 6 mila metri quadrati, quindi un investimento che servirà, servirebbe a rimettere in moto l'edilizia e quindi l'economia con tutte le ditte che andrebbero a lavorarci, ci servirebbe poi dare servizi di accoglienza ai pellegrini che magari potrebbero intanto essere accolti in modo più degno rispetto a quello che avviene ormai da oltre vent'anni di fatto nella spianata che tutti conosciamo e poi magari nel momento in cui ci sono servizi di accoglienza di un certo tipo è chiaro che anche l'indotto andrà sicuramente ad aumentare. Ebbene, tutto questo c'è anche il gioco di parole, il santuario di Pantano è impantanellato da quando venne fatta la prima proposta e non se ne sa più nulla tant'è che addirittura la CEI da fonti che abbiamo noi sarebbe pronta a togliere il finanziamento e quindi a rinunciare all'investimento del santuario. Di fronte a tutto questo, che sono cose che io ho detto, su cui mi sono assunto la responsabilità di dirle ufficialmente in Consiglio Comunale, il sindaco come al solito prima è andato al bagno perché evidentemente le critiche o forse il sottoscritto gli fa questo effetto particolare, poi è ritornato, al solito ha allargato le braccia e ha detto che dice io non ne so nulla, delle due l'una, o il sindaco ha mentito, mi pare l'ipotesi più probabile francamente, oppure c'è qualcuno, qui di Pantanelli, gli uffici e chi per lui, che gli nasconde le cose e non si capisce poi, non si capirebbe a che fine e a che pro.